Zuppa di Porro del 7 agosto, vediamo che cosa è successo oggi sui giornali, vi dico subito che oggi la lettura dei giornali è stata una cosa di una noia mostruosa, micidiale, perché quando un evento, un grande evento avviene nel pomeriggio, un grande evento di cronaca, il giorno dopo sui giornali puoi semplicemente saltare le prime 5-6 pagine, cosa che avrei voluto fare io oggi, per leggere quel grande evento. Ormai qualcuno di voi vuole informarsi sulla cisterna che si è infiammata, la morte purtroppo del camionista sull'A14 nello svincolo di Borgo Panigale, qualcuno di voi pensa che lo abbia appreso questa mattina dei giornali e non l'abbia letto in tutti i modi possibili, immaginabili ieri sulla rete, oltre che sui telegiornali e sulle mille news che ci sono? Secondo me nessuno, e per oggi i giornali hanno dedicato 4-5 pagine aggiungendo zero, cioè due palle così, a queste relazioni. Mi sarei aspettato ad esempio un ragionamento in più sui giornali, un passo diverso, lo dico ovviamente facendo i giornali e pensando che comunque sia molto difficile, auga Giorgio. E allora una delle cose che mi sarei aspettato è per esempio, se è vero, come è vero, l'abbiamo letto anche ieri, che ci sono 10.000 trasporti pericolosi al giorno in Italia, mi chiedo quanti di questi trasporti pericolosi potrebbero andare sulle ferrovie? E quanto conta il fatto che non vogliamo sviluppare le ferrovie, perché abbiamo paura della TAV, della no TAV, dell'alta capacità? E ancora, non è che, io lo dico laicamente, questo mi sarei aspettato dai giornali, non è che se li spostiamo sulle ferrovie magari passiamo il rischio dalle strade alle ferrovie, sono meno rischiose le ferrovie di quanto lo siano le strade, posto che anche le ferrovie e il trasporto su ferro può essere pericoloso. Ecco, di tutto questo non trovate nulla, ma trovate grandi reportage scritti piuttosto male su quello che è successo ieri e che ieri avete letto in 140 tweet e soprattutto con quelle immagini Whatsapp che vi sono arrivate dello scoppio dell'autocisterna che ovviamente vale mille reportage. Avete visto quello? Beh, avete visto tutto. È inutile che ci rompete le balle con 5 pagine e io continuo a rompervele ancora nel parlare. 12 immigrati pare morti a Foggia, questa è la seconda notizia di giornata di cronaca che già ieri c'era, ci saranno stuoli contro lo sfruttamento, ieri alla Camera un minuto di silenzio. Ecco, tutte ipocrisie, gigantesche ipocrisie. Conosco bene quel mercato, conosco bene quel settore, cioè quello dell'ortofrutta e quella della Puglia e quello che dico è che il governo precedente, quello di Renzi, sapete che cosa ha fatto? Ha fatto la legge sul caporalato. Quelle solite robe come la legge, il decreto di dignità fatto da questo governo, la legge sul caporalato che chi puniscono? Puniscono le persone per bene. Cioè l'agricoltore per bene, mio fratello, la mia azienda che magari viene beccato perché una volta su dieci anni gli pizzicano una persona irregolare, presa attraverso una cooperativa che a sua volta non ha pagato i contributi e addirittura ti sequestrano la terra. Poi quando vai a vedere che ci sono persone pagate 5 euro che vanno in 15 in piedi su una macchina bulgara, beh, secondo voi la legge sul caporalato è servita a qualcosa? Zero! Queste leggi sapete che servono a fare un culo così alle persone oneste che qualche volta possono sbagliare, e invece che sono tutti diventati caporali, no? Tutti caporali, mentre non servono a quello che dovrebbero servire, cioè a eliminare malavitosi come nel caso di ieri, perché mettere persone in piedi in un camion targato bulgaro a Milano, a Foggia, portarli in un ghetto, beh, insomma, queste robe qui riguardano non le leggi sul caporalato, queste cose qua riguardano soltanto questioni di ordine pubblico, perché vuol dire non controllo del territorio, non controllo del territorio, questo è gravissimo, invece siamo qua a fare leggi sul caporalato che vanno a finire a danneggiare i pochi agricoltori per bene che oggi esistono. Sulla TAV le solite cose, oggi andiamo avanti sulla TAV, tutti i giorni sulla TAV e sull'ILVA cosa succede? Che il Movimento 5 Stelle dice, ci vuole un approfondimento, bisogna andare avanti per capire che cosa succede sulla TAV e sull'ILVA. Ve lo dico io cosa succede, questi non la vogliono fare la TAV e l'ILVA, oggi c'è un fantastico pezzo di Vico che ci racconta per quale motivo TAV serve in un mondo fatto di logistica, di filiere, cioè uno fa un pezzo e l'altro fa un altro e che si devono mettere insieme, quindi questo governo proprio non ce l'ha nel suo DNA, servono le delocalizzazioni, nel senso che parti produttive vengono fatte da una parte, parti produttive vengono fatte in Italia, terze parti vengono fatte negli Stati Uniti, si assemblano insieme, questo è il nuovo Industria 4.0, non quella minchiata che se ci sono pensate persone che non hanno mai lavorato in vita sola. Oggi c'è un'intervista a Bonometti, l'industriale di Brescia, che è una bellissima azienda anche lui, che ci spiega cosa vuol dire per lui il decreto di dignità e quanto bloccherà il mercato del lavoro, ma ovviamente dice, io il Movimento 5 Stelle non li conosco, i pochi leghisti che vedo glielo dico, ma a me sembrano darmi ragione personalmente e poi evidentemente ragionano con altre logiche. Ma torniamo alla TAV, è oggi il solito trick e track, ci dicono che la TAV non serve, che i costi, le penali, insomma stiamo sempre sulla stessa identica via di ragionamento. E sapete che cosa finirà? Che perderemo tempo, che continueremo a perdere tempo, che faremo le interviste a Ponti come avviene oggi al professore Ponti che ci spiega quanto e come servono. Cazzate! Fatela! Fatela! Si deve fare la TAP, si deve fare la TAV, si deve fare il terzo valico in Liguria, ancora che parliamo, ma è già il parlarne ancora, qua dovrebbero essere 20 miliardi attivati subito, e invece stiamo qua a cazzeggiare con Di Maio che va e convoca 62 persone, 62 sigle, compresi i tamburi, come si chiamava quella sigla per discutere dell'Ilva di Mittal, i tamburi recalcitranti, capito? Compreso loro, va a sentire per fare l'Ilva o no a Taranto. Ringraziamo il Dio che c'è qualcuno che se la vuole comprare, tra un po' non compreremo più nulla, già un alto forno l'hanno spento, ne spegneranno altri, chiuse la partita, per revampare quell'altro forno servono 100 milioni, ma comunque andiamo avanti così, andremo tutti a vivere in un paese più sano e più normale. La cosa che poi dopo vai a vedere, però ci sono dei giornalisti che hanno la schiena dritta su queste cose, gliela vanno a raccontare al governo, sapete su che cosa si occupano i giornalisti? Sulla questione di Daisy, una ragazza di colore che è stata beccata da, ve la ricorderete, da un uovo. In realtà non c'entrava niente il colore della sua pelle, erano tre ragazzini che prendevano 6-7 persone indipendentemente dalla loro pelle. Succede, c'è qualcuno che lancia le uova, in tutti i mondi ci sono dei cretini che possono fare più o meno male. Tutti i giornali italiani, invece di occuparsi della TAV, di Mittal, della stronzata del decreto di dignità, eccetera, di che si sono occupati? Questo governo di razzisti, l'ondata di razzismi. E uno di questi, Pierluigi Battista, bravo, grande giornalista del Corriere della Sera, dice Salvini, sì scusi, e lui oggi scrive una lettera semplicemente al Corriere della Sera di 20 righe. Guarda, intanto ho dato la mia solidarietà a questa signora, perché è una compionessa, un'atleta italiana, ha dato la solidarietà. E poi ho detto che non c'entrava nulla al razzismo, ma che erano dei cretini, perché avevo qualche informazione di polizia facendo il ministro degli interni. Punto. Questa è la lettera che dice Salvini, quindi io non mi devo scusare con nessuno. Voi forse doveste scudarvi, avete detto che c'era un'aggressione razzista quando non lo era. Battista gli risponde, zitto, stai zitto, hai detto una minchiata, stai zitto. Cioè, noi giornalisti spesso scriviamo delle minchiate, zitti. Questa è l'unica cosa, certo non ce la facciamo magari dire scusi, ministro, abbiamo scritto una minchiata, perché questo non ce la facciamo perché il nostro ego non ce lo permette. Ma almeno, zitto, quando il ministro si iscrive e dice guarda, erano razzisti? No. Avevano attaccato altre persone non di colore? Sì. E io ho mandato un comunicato in cui ho chiesto scusa a questa persona? No. Perché non devo chiedere scusa di niente? Gli ho mandato un comunicato di solidarietà? Sì, zitto, allora giornalista, no? Non è che c'era... Beh, oggi la letteratura su Corriere della Sera mi dite voi con chi state. L'altra grande, colossale minchiata è questo attacco a Mattarella. Fatto il 27 maggio, mi sembra che era la data in cui Savona doveva essere ministro e lui si oppose a fare ministro. Ne parla Travaglio oggi come da par suo. Stiamo... praticamente c'è l'intelligence italiana che oggi si occupa di 300 troll, che sarebbero 300 nomi finti su Twitter che hanno attaccato, che si sono permessi di attaccare Mattarella. Questo è il problema oggi della sicurezza italiana. Sapere chi sono quei 300 cretini che su Twitter hanno detto Mattarella, dimentiti! E oggi devo dire che Travaglio è molto interessante perché tra l'altro, fino all'altro ieri ci avevano spiegato che questi troll erano legati a Russiagate, Elena4862, il nome in codice di questa troll russa, secondo Fubini sul Corriere della Sera. Tutte stronzate! Tutte stupidaggini! Erano troll che venivano da Milano e come sempre avviene quando questi fanno i troll, come i deficienti che ogni tanto mi scrivono a me, cosa fanno? Mettono un nome finto, si creano un'identità finta e si appoggiano a dei server stranieri, russi, cinesi, tailandesi, ovunque per non farsi beccare, perché sennò l'IP è un indirizzo per cui tu vedi nome, cognome e indirizzo della persona che ti sta sputtanando. Quindi questi, per essere più certi, facevano questa specie di montagna straniera. La montagna straniera sembrava che fosse un attacco dei russi, in realtà era un attacco di quattro cretini, sicuramente governati, o dal Movimento 5 Stelle o dalla Lega, ma non me ne fotte nulla! Sono 300 cretini su Twitter! E qua noi abbiamo l'antiterrorismo con l'elmetto! Oh, troviamo il troll! Questo è il problema, trovare il troll che aveva fatto hashtag dimettiti mattarella! Ma ragazzi, noi siamo impazziti! Cioè, con i miei soldi stiamo trovando il troll per attentato, vilipendio al capo dello Stato! Una roba che verrebbe da ridere, quanto, se non di più, quello che avviene a Roma, perché oggi l'inchiesta è aperta, sul fatto che la Raggi, mentre parla dei, come si chiama, dei campi Rom, ieri, l'intervista che vi ho segnalato sul libro, praticamente fa l'accordo con i Rom per l'inutile spiaggia di Roma, che oggi, come segnala il messaggero, fu testata una settimana fa, tre giorni fa, visto che nessuno si va alla spiaggia di Roma, che è una cagata, vi potete immaginare, sul Tevere che puzza, manco i sorci ci vanno là, sulla spiaggia di Roma, ha messo questi poveri dipendenti comunali a testare, giuro, giuro, non è una barzelletta, per testare i lettini sulla spiaggia di Roma, ha preso i dipendenti comunali di Roma, che già proprio, non è che stiamo parlando della città che brilla per efficienza, cosa facciamo? Gli facciamo fare le patenti, gli facciamo fare le carte d'identità, gli facciamo fare l'anagrafe, gli facciamo pulire i giardini pubblici, gli facciamo, no, gli facciamo testare i lettini della spiaggia di Roma, questo è una delle attività fatte ieri dai dipendenti del comune della Raggi, tu dovresti andare lì con, vabbè lasciamo perdere, se no c'è un'inchiesta di antiterrorismo anch'io, l'altra cosa che io trovo stupenda oggi la tira il messaggero, cosa sta succedendo alla Camera dei Deputati nel suo bilancio, va bene? Nel suo bilancio il messaggero è andato a scovare una cosa molto semplice, cioè il bilancio per l'anno prossimo della Camera dei Deputati, a guida, giallo, verde, presidente, fico, l'uomo contro i vitalizi, cosa succede? Aumentano i costi della Camera dei Deputati, si aumentano, la casta aumenta, la casta non è fatta più da Pomicino, non è fatta più da De Michelis, non è fatta più da Forlani, è fatta da Fico, è fatta da Fraccaro, è fatta da Salvini, è fatta da, che ne so, da questi qua nuovi, va bene? Aumentano i costi della Camera dei Deputati, nonostante sia guida Fico, e di quanto aumentano 19 milioni? Passano da 950 milioni, secondo quello che scrive il messaggero, a 969 milioni, by the way, mille miliardi per far funzionare la Camera dei Deputati, beh, mi sembra una cifra niente male, questo però non lo possiamo più dire, perché oggi ci governano quelli che sono per i tagli, quelli che vogliono che i vitalizi vengano tagliati, e l'altra cosa divertente che c'è, hanno tagliato i vitalizi, che dovrebbero essere 40 milioni di risparmio nel 2019, ma siccome li hanno tagliati, ma non sono sicuri che questa cosa possa passare alla Corte Costituzionale, non daranno indietro al Ministero del Tesoro gli eventuali risparmi che hanno fatto nel non pagare i vitalizi, vi spiego la procedura, come direbbe il Marchese del Grillo, la Camera taglia il vitalizio al deputato di 20 anni fa, gli taglia il vitalizio, sono 2000 persone a cui taglia il vitalizio perché erano fuori dalla riforma del PD, taglia il vitalizio a questa persona, gli toglie 1000 euro, ma siccome questi 1000 euro non è sicuro che quella persona non faccia ricorso, e vinca il ricorso, se li tiene, non li restituisce al Tesoro, quindi risparmio è zero, cioè hai tagliato i vitalizi, ma il risparmio è zero, ma vado avanti, oltre al risparmio zero, cosa hanno fatto questi paraculi della Camera deputati? Come sapete, Renzi aveva messo quel tetto assurdo di 240 mila euro per tutti i dipendenti pubblici, solo che la Camera deputati fa come cazzo gli pare perché non sono dipendenti pubblici, allora che cosa fanno? Fanno i fichi, dicono per tre anni anche noi il tetto di 240 mila euro, sono finiti i tre anni, l'anno prossimo e il quarto anno aumenti per tutti i dipendenti della Camera, il che vuol dire che aumenteranno gli stipendi e le pensioni dei dipendenti della Camera, ci sarà il 240 mila euro, non sarà più un tetto e non se ne parla più e ci sarà un nuovo concorso per assumere più persone alla Camera perché non gliene bastano quelle che c'hanno. Allora io dico, e dove siamo finiti? Stella, Rizzo, il Movimento 5 Stelle, i leghisti, i forconi della mia minchia, dove sono finiti questi dopo che ci sono ulteriori aumenti per quella che doveva essere la Camera della Casta? Adesso sono loro, ci sono loro che sono là, tagliateveli, diminuite, riducete se è così semplice, 969 milioni costerà la Camera, io dico andiamo avanti, vediamo che succede. Ultima cosa, solo le 24 ore ve la segnalo, anche qui il solito trick e track ce lo porteremo fino ad ottobre, la flat tax, insomma ormai è chiaro, questi vogliono fare una piccola flat tax, questa flat tax non sarà per tutti, sono 40 milioni i contribuenti italiani, 30 milioni pagano le tasse, quindi 10 milioni e zero, dichiarazione dei redditi, di questi 30 milioni pochissimi avranno la flat tax, ce l'avranno soltanto alcune partite IVA, e cioè quelle partite IVA che già oggi potrebbero godere del regime dei minimi, quindi che hanno fino a 50 mila euro di reddito, gli aumenteranno il reddito, il tetto per avere il regime dei minimi, da 50 mila a 100 mila euro, una bella botta, perché un professionista che guadagna 80 mila euro avrà soltanto il 15% di tassa, quanti sono in tutto questi signori in più che avranno e godranno la flat tax? 500 mila, passiamo da 960 mila dei regimi dei minimi oggi a un milione e mezzo, meglio di niente, certo, ma mi sembra chiaro ormai che verso quella direzione si va, questa non la chiamerei la flat tax, la chiamerei la fischio tax, perché riguarda 4 persone che se le fischi si mettono insieme, e più o meno raggiungono il numero di un paio di partite, un paio di stati italiani, questo è quello che succederà con la flat tax, ma la cosa che più mi diverte oggi, è che se questa zuppa vi piace, non ci sono cretini che mi hanno scritto, oggi non c'è neanche un cretino che mi ha scritto, come è possibile? Se vi piace questa zuppa condividetela, e mi raccomando, se cercate un posto di lavoro, pensate alla Camera, è sempre migliore, non come parlamentare, come dipendente. Ciao!